Un ristorante che non è solo un ristorante, ma anche un green house e un garden organico servendo prodotti incredibilmente freschi locali, sfruttando solo un po' di metri dal clade. Siamo in Amsterdam, dentro del Parque Frankendiel. Qui si sta un bambino majestico, un'8 m high green house con un bambino imposto di bambino, emettando calma e aromas. Questa è la cassa, la cucina di green house. La cassa è nata grazie al chef Gorgian Heggmann, che ha avuto un bambino municipale dal 1920 e trasformato il bambino in un ristorante con l'assistenza di Piet Boon, un desiderio nazionale nazionale. La struttura è magnifica, con grandi luoghi che diamo l'impressione di non città tra l'interiore del ristorante e il parco surrounding. La cassa inizia con un appetizio accompagnato da un cocktail e vegetali che si tratta direttamente dal ristorante di green house. Da plant a plate, questo è il ristorante del ristorante. Qui i vegetali sono praticamente farvestiti nel mattino e serviti al stesso giorno. Il primo ristorante consiste di beetroot e radicchio, orsreddish, pinnati e pomegranate. è molto bello. È molto fresco. Ciò che non può essere sviluppato nel ristorante viene da un grande giardino in Wimster, dove il Daley colla i materiali riusciuti per il servizio. La cassa ha ottenuto una storia di Michelin grazie ai prodotti di qualità finissi in preparazione e di gusti distinti. Un altro ristorante arriva alla tavola Remaker cheese cream, low-edged potatoes with chard and brussel sprouts. Cada ingrediente ha una textura e un innanzitore creando un miglior balance. il menu cambia frequentemente perché solo quello che è disponibile è usato. glace a Maitake di Maitake di Maitake di Maitake di Maitake e di Svangelo serviti con indagare un po' di pomegranate con la cucina dell'Avola di Kass è il maggiormente vegetale e la frescezza dei prodotti rende i piatti soddisfatti e rinnovano in aromas e nuove Chef Savanna Hagen-Decch took us to visit the greenhouse after lunch and thanks to her kitchen and Bram de Kander's one, the cast was named Vegetable Restaurant of the Year 2023 by Goethe Millot. The cast makes you forget that you are in a large city like Amsterdam, offering a place dedicated to the relationship between humans and nature, attentive to sustainability and the quality of products.